Le formule del rombo. Ecco qui il nostro rombo di cui indico il lato, la diagonale minore e la diagonale maggiore. I problemi con il rombo ci possono chiedere di trovare 5 cose che sono il lato, una diagonale, l'altezza, l'area oppure il perimetro. Se ci viene chiesto di trovare il lato, il problema ci deve dare due tipi di informazioni, e cioè o ci dà il perimetro, e lo scriviamo qua, oppure ci fornisce l'area e l'altezza, e le scriviamo qui. Se conosciamo il perimetro e dobbiamo trovare il lato, applicheremo la formula perimetro diviso 4. Se dobbiamo trovare il lato e conosciamo l'area e l'altezza, applicheremo la formula area diviso altezza. Passiamo all'area. Anche in questo caso il problema per trovare l'area del rombo ci deve dare due tipi diversi di informazioni. O ci fornisce le diagonali, maggiore e minore, oppure ci fornisce il lato e l'altezza. Scriveremo le informazioni note qui. Se conosciamo le diagonali, troveremo l'area applicando la formula diagonale maggiore per diagonale minore diviso 2. Se conosciamo il lato e l'altezza, applicheremo la formula lato per altezza. Se dobbiamo trovare una diagonale, applicheremo la formula area per 2 diviso l'altra diagonale. Ovviamente dovremo conoscere l'area. Se dobbiamo trovare l'altezza, applicheremo la formula area diviso lato. E in questo caso dovremo conoscere sia l'area che il lato. Infine, per trovare il perimetro, dovremo essere a conoscenza del lato e applicare la formula perimetro uguale lato per 4. Queste sono le formule per lavorare con il rombo. Grazie. Grazie.